E' quello che accade in tutte le altre forme, diciamo, di giustizia, ma è così. E quello che fanno non è lotta all'evasione fiscale, quello che fanno è caccia al centito. Perché devono coprire quei soldi. Allora arriva il funzionario. Bisogna chiedere agli italiani che cosa vogliono. Se gli italiani mi chiedono di guidare il governo di questa nazione, io guiderò, se lo vuole il Presidente della Repubblica, se è d'accordo, eccetera, insomma con le regole della nostra Costituzione, guiderò questa nazione. E per quanto possa rendermi conto della difficoltà enorme nella quale l'Italia si trova, so anche che ho la libertà, il coraggio, la forza e un partito per riuscire a cambiare tanti meccanismi che ho visto in questa nazione.